chi vince la finale secondo te Elisa? diciamo che c'è Barcellona-Lione il Barcellona viene da una stagione incredibile il Lione è partita un po' così ma si è ripresa alla grande alla fine quindi dare un pronostico così è durissima dico Lione tra l'altro è stato un anno particolare per la Champions femminile, c'è stadi pieni quelle immagini che hanno stupende cioè che effetto fa per voi ovviamente vedere anche lo stadium pienissimo nelle partite che contavano poi io mi ricordo dei finali giocati di Coppa Italia in cui non avevamo neanche le linee non ci portavano l'acqua veramente surreale quindi non anche solo il fatto che giochiamo negli stadi per noi è qualcosa di grandioso perché non ho mai avuto la possibilità quindi quest'anno a giocare in questi stadi riempirli, vedere anche il camp non pieno con centomila persone ti fa capire che qualcosa sta cambiando che siamo sulla strada giusta è stato un po' di più che è stato un po' di più